Nel 1991 un primo scioglimento per infiltrazioni mafiose quando a guidare il comune era il democristiano Franco Anastasio. Nel 2003 una seconda e a venire sciolta fu l'amministrazione dell'allora sindaco di centrodestra Pasqualino Scaramuzzino. Ora il comune di Lamezia Terme rischia per la terza volta. Il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, su delega del ministro dell'interno, ha disposto infatti l'accesso antimafia al comune di Lamezia, nominando un'apposita commissione. La decisione, come scritto in una nota della prefettura, è stata presa ricorrendo la necessità di svolgere approfonditi accertamenti al fine di verificare la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata degli amministratori del comune di Lamezia Terme. Per tre mesi, a partire da ora, prorogabili per altri tre, la commissione avrà accesso agli atti e dovrà redigere una relazione conclusiva che invierà al prefetto che a sua volta redigerà un'altra relazione entro 45 giorni da inviare al ministro dell'interno. Il compito di avanzare la proposta di scioglimento al presidente della Repubblica spetterà, qualora se ne ravvisi la necessità, al ministro dell'interno. Il massimo esponente della Repubblica, invece, emetterà il decreto di scioglimento previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della relazione del prefetto. A far ripiombare Lamezia ed il suo Consiglio Comunale nell'incubo è stata l'operazione Crisalide, condotta lo scorso 23 maggio dai Carabinieri e coordinata dalla DDA di Catanzaro, contro la cosca Cerra Torcasio Gualtieri, che ha portato a decine di arresti. Nell'inchiesta sono indagati in stato di libertà il vicepresidente del Consiglio Comunale Lamettino, Giuseppe Paladino, poi dimessosi, e Pasqualino Ruberto. Quest'ultimo, candidato a sindaco di Lamezia in occasione delle amministrative 2015, poi vinte dall'attuale primo cittadino Paolo Mascaro, è stato sospeso dalla carica di consigliere comunale dal prefetto di Catanzaro, dopo esser stato arrestato nel febbraio scorso in un'altra operazione della DDA, denominata Robin Hood, sul presunto utilizzo illecito dei fondi comunitari destinati alle famiglie bisognose, distratti invece, secondo l'accusa, anche col contributo di presunti affiliati alle cosche Lamettine.